Buongiorno, sono Mauro Gerry, consulente Dacia di Gruppo Carmeli. Oggi vi presento il nuovo Duster Prestige 1.5 DCI 115 CV 4x4. La trazione integrale è inseribile con un semplice comando posto sul tool in centrale e vi permetterà di percorrere senza problemi qualsiasi tipo di tracciato, sia stradale che in fuoristrada. Di serie, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza, tra cui airbag contro la trazione e stabilità, sensore angolo cieco, Duster Prestige vi offre climatizzatore automatico, monitor touchscreen da 7 pollici che integra navigatore e retrocamera per l'assistenza al parcheggio, keyless e avviamento a tasto, cerchi lega da 17 diamantati, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio, volante multifunzione con rivestimento in pelle, cruise control e bracciolo. Duster Prestige è disponibile oltre che 4x4 anche con trazione e due ruote motrici e con il nuovissimo 1000 turbo benzina GPL, la soluzione più ecologica ed economica presente sul mercato con un'autonomia totale di oltre 1000 km. Se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a tua disposizione. Grazie a tutti.